Allora, la nostra Carmen Russo è un'icona, non si discute. Allora ragazzi, io ufficializzo gli immuni di questa sera. Sono ufficialmente immuni dalle televendite... No, dalle televendite. È la Carmen Russo... È la Carmen Russo che mi fa andare fuori di testa. Sono immuni dalle nomination. Tavassi, Nikita, Onestini, Daniele, Luca, Antonino e Oriana. Tutti gli altri sono nominabili e dovranno votarsi tra loro in modo palese.